Buongiorno e ben trovati alla prima edizione del mattino del Tg della mobilità. A Centocelle, terzo giorno di lavoro in Piazza dei Gerani con la modifica delle linee tramviarie 5 e 19. Le due linee sono sostituite con le navette bus tra Largo Preneste e Piazza dei Gerani. La linea 5 poi effettua un collegamento tramviario unico con la linea 14 tra Termini e Quarticciolo. La linea 19 viaggia su tram solo tra Piazza Risorgimento e Largo Preneste. Le altre notizie terminati, lavori stradali in via Laurentina tra Viale dell'Umanesimo e Via dell'Oceano Atlantico, i lavori realizzati dal Dipartimento Capitolino, Infrastrutture e Manutenzione hanno interessato anche le aree di parcheggio e l'intervento si è esteso alla pulizia delle caditoie e in via di conclusione poi il rifacimento della segnaletica. Intanto in Viale di Porta Ardiatina sono in programma lavori di ripristino del manto stradale all'altezza dell'Appia Antica. Possibili rallentamenti anche oggi per la linea bus 218. Tutti gli aggiornamenti si potranno seguire nel corso della mattina anche sul sito romamobilita.it.